Sono Claudio Ferone, professore associato di Chimica presso il Dipartimento di Ingegneria dell'Università Artene-Opera-Etina. Come settore di ricerca e di studio mi occupo di leganti e materiali da costruzione innovativi ed ecosostenibili, prevalentemente inorganici e ottenuti per attivazione alcalina di rifiuti industriali e naturali di natura silico-alluminatica. Però mi sono sempre interessato di materiali per i beni culturali, fin dalla mia laurea ormai lontana, in cui ho studiato malte tradizionali applicate su murature di tuffo giallo napoletano con lo scopo di bloccare o fermare la risalita capillare, che è un fenomeno particolarmente gravoso per le murature di tuffo a Napoli. Il mio intervento alla scuola di Pula sarà incentrato su un caso studio particolare, cioè malte e tuffi di origine romana, provenienti prevalentemente dal sito archeologico di Ercolano, che sono particolarmente interessanti per lo stato di conservazione sia dal punto di vista meccanico che dà le caratteristiche proprio morfologiche della malta e che sono state caratterizzate attraverso una serie di tecniche tipiche della scienza e della chimica dei materiali, quali analisi diffrattometrica ai raggi X, microscopia elettronica a scansione, microscopia ottica, analisi termica. E quindi vi parlerò dei risultati ottenuti da questo studio. A questo punto non mi resta di darvi appuntamento il 4 giugno a Pula, arrivederci.